e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi visto che me l'avete chiesto volevo farvi vedere un po quello che utilizzo quando piove darvi magari tra virgolette dei consigli o comunque dirvi quello che faccio io appunto quando piove e per proteggermi dall'acqua quando viaggio in moto allora io ero partito come prima cosa che avevo acquistato con una tuta impermeabile intera questa acquistata da un negozio di articoli da moto ve la dico anche Will Up era comunque una delle più economiche non mi ricordo bene quanto l'ho pagata però non tantissimo e comunque ha fatto un ottimo lavoro ad esempio quando sono andato in Toscana due o tre anni fa ho usato questa il primo giorno che diluviava e di acqua comunque ne è entrata davvero poca quindi devo dire che mi sono trovato molto bene però visto che a mio avviso comunque la tuta intera è un po diciamo difficile da mettere togliere diciamo rapidamente ci vuole non dico che ci vuole tantissimo tempo però comunque è un po scomoda da indossare e da togliere ho deciso di prendere un due pezzi e ho preso questo marca Guardian non credo che sia una marca conosciutissima visto che l'ho presa questa tuta a due pezzi questo qua è la giacca l'ho presa in un supermercato nel reparto dove vendono le cose della macchina delle moto c'era questo qua e mi pare che costava sui meno di 40 euro credo e comunque questa l'ho utilizzata nel giro d'Italia soprattutto nella giornata dove sono dove da Napoli sono arrivato a Firenze e ho fatto tutto il giorno sotto l'acqua e anche questo devo dire che ha tenuto abbastanza bene di acqua l'entrata pochina in più io ai piedi ho sempre messo questi parascarpe diciamo abbastanza comodi diciamo che sì non sono il massimo da camminarci sopra però comunque se non avete i stivali impermeabili questi credo che siano un'ottima soluzione non costano neanche tanto io sono andato a prenderli in un negozio sempre da wheel up ecco li ho presi insieme alla tuta intera e devo dire che fanno davvero un buon lavoro di acqua ne passa pochissima quasi niente anzi niente e quindi ve li consiglierei comunque io ho preso mese scor due mesi fa una stivali impermeabile quindi vorrei provarlo anche sotto l'acqua e poi vi dirò un po come inoltre per l'acqua ho preso anche questi guanti che sono impermeabili e comunque sono anche invernali perché sono abbastanza imbottiti non fanno passare neanche il freddo li ho provati anche questi a ottobre dell'anno scorso Napoli Firenze sotto l'acqua erano zuppi fuori ma dentro comunque sono restati abbastanza asciutti un po' bagnatini erano però comunque dopo una giornata di acqua devo dire che si può capire e hanno davvero a mio avviso una buona tenuta magari vi metto il video che li riguarda qua in alto niente quindi queste sono le cose che metto diciamo sopra però un consiglio dei consigli che vi do è comunque di coprirvi bene anche sotto ovvero sotto la giacca io solitamente metto vabbè oltre alle protezioni metto allora per quanto riguarda la parte superiore metto una maglietta tipo questa una maglietta diciamo termica è fatta comunque di materiale sintetico quindi fa scorrere via leggermente l'acqua non si imbeve subito quindi se dovesse filtrare qualcosa dalla vostra tuta sicuramente questa non si bagna all'istante ma un po' lascia scorrere sicuramente non fa miracoli ma comunque in accoppiata con impermeabili sopra sicuramente fa un buon lavoro a mio avviso in più sotto metto dei pantaloni da ciclismo quando fa freddo aiutano anche comunque con a proteggersi dal freddo i pantaloni da ciclismo quelli un po' più spessi e comunque anche loro essendo di materiale sintetico fanno andare via l'acqua io solitamente i pantaloni da ciclismo li metto anche quando fa fa bel tempo invece di mettere gli slip metto i pantaloni da ciclismo perché perché i pantaloni da ciclismo hanno comunque un imbottitura che comunque permette di essere anche più comodi seduti sulla moto hanno un imbottitura appunto che si chiama il fondello il cosiddetto fondello che comunque appunto ci consente di avere una seduta più confortevole sulla moto o sulla bici se andiamo in bici quindi io a mio avviso consiglio per i lunghi viaggi ma non solo se volete uscire in moto di mettere sotto un bel pantaloncino da ciclismo so che magari suona un po' strana però secondo me è una soluzione che comunque ci permette di star più comodi inoltre io solitamente quando piove tanto diciamo sulle scarpe sotto le scarpe metto faccio così metto un calzino un paio di calzini un sacchetto di celofan sopra il calzino e poi un altro calzino quindi tra un calzino e l'altro diciamo metto un sacchettino di plastica ovviamente non chiuso troppo stretto per fare circolare meglio il sangue diciamo per fare comunque continuare la circolazione però questo consente permette che se entra filtra qualcosa anche nelle scarpe comunque avendo un po' di di questo sacchetto di plastica tra un calzino e l'altro se dovesse passare qualcosa di acqua diciamo che il piede non va a bagnarsi c'è chi dice vabbè la circolazione di qua io non ho mai avuto problemi di circolazione e quando ho fatto queste cose il piede stava benissimo quindi ed era sempre risultato asciutto quindi io vi consiglio se se no non fatelo e prendete comunque un buon stivale impermeabile e mettete il riparo per le scarpe quindi questo grosso modo è quello è come mi comporto io quando appunto piove spero di avervi dato degli spunti importanti io vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale vi ringrazio di aver seguito anche questo video spero che vi sia interessato e niente ci vediamo molto presto con tanti tanti video e speriamo che fra un po' si possa cominciare a uscire in moto quindi grazie ancora e ciao ciao